Il calcio mercato dell'Avelino assomiglia sempre più ad una telenovela in stile sudamericano nella quale non mancano mai colpi di scena a ripetizione, quelli che nessuno si aspetta e che cambiano il corso della storia. E' il caso di Felice Evacuo che fino a ieri sembrava a un passo dal ritorno in Irpinia ma poi una mossa sorpresa dell'Alessandra nella serata di ieri ha rimesso tutto in discussione. Il club Lombardo infatti ha offerto al Parma 50.000 euro per liberare il calciatore fino al termine della stagione e in più ha aumentato la cifra relativa all'ingaggio rispetto a quella dell'Avelino per un rilancio complessivo di 100.000 euro. La gente di Evacuo ha chiamato la dirigenza erpina la quale ha spiegato la situazione ma competere con l'Alessandra per una montagna troppo alta da scalare per il club di Taccone che non è intenzionata a investire così tanto per un attaccante. Impossibile però perdersi d'animo o rimanere con le mani in mano anche perché c'è il posto di Mokulu rimasto vuoto da riempire e allora sono ricominciati i sondaggi. Diversi calciatori sulla lista di Enzo De Vito e Massimiliano Taccone Umberto Iusepi attualmente al Pisa l'indimenticato ex Gianmarco Zigoni che alla spalla trova meno spazio con l'arrivo di Flocari Riccardo Bocalon proprio dell'Alessandra e Davide Luppi classe 90 dell'Elas Verona già cercato durante questa estate. E' sfumato Evacuo e sfumato anche Roberto Crivello dopo aver accarezzato da giorni l'idea di poter mettere le mani sul terzino sinistro i dirigenti irpini hanno dovuto effettuare una brusca frenata a far scattare il semaforo rosso alla trattativa è stato l'allenatore del Frosinone Marino che ha perso per l'intera stagione l'altro terzino Nicolo Brighenti. Recepito il pericolo di restare nuovamente a mani vuote De Vito e Taccone hanno virato in maniera decisa verso le rutte alternative che avevano preparato da tempo. Quella più battuta e interessante porta a Fabio D'Aprela 26enne in prestito al Bari ma di proprietà del Chievo Verona. Rispetto a Crivello l'esterno bianco-rosso è più offensivo anche in questo caso l'operazione non appare delle più semplici dal momento che Colantuno preferirebbe trattenerlo ma deve fare i conti con la volontà del calciatore deciso ad andare via perché richiesto pure da una società di serie A svizzera. Per i buoni rapporti che ci sono tra il Chievo e l'Avelino la fumata è più bianca che nera. Più praticabile ma meno affascinante la strada per arrivare a Sergio Contessa 27 anni del Lecce.